L'aderenza alle terapie è un tema importante di cui si parla sempre di più, nemmeno il farmaco più efficace funziona se non viene preso nei modi giusti, nei tempi giusti. Se ne è parlato molto qui a Bologna nel corso di Rewind 2024, un evento molto bello che ha come tema la reumatologia e dove vengono analizzate le novità più importanti dell'anno che si è appena concluso. Una delle novità, uno dei temi è proprio quello dell'aderenza e noi ne parliamo con il dottor Oscar Epis che ha parlato proprio di questo argomento. Allora, dottor Epis, quanto conta la comunicazione medico-paziente nel favorire l'aderenza alle cure? La comunicazione medico-paziente è fondamentale. Pensiamo che il motivo per cui il paziente non prende la terapia è legato prevalentemente alla non corretta comunicazione medico-paziente. Il paziente intenzionalmente non assume farmaci, decide spesso sin dall'inizio di non assumere farmaci, quindi c'è un'aderenza che chiamiamo primaria intenzionale. In alcuni casi inizia la terapia, poi intenzionalmente smette di prendere i farmaci. Allora, questa intenzione di non prendere la terapia è legata essenzialmente a una non efficace comunicazione medico-paziente, il che purtroppo capita abitualmente nei nostri ambulatori per una serie di motivi. Uno, perché la visita dura 20 minuti e se pensiamo alla non intenzionalità primaria, ossia nel momento in cui facciamo diagnosi al paziente che già ha i suoi problemi nel captare la gravità della malattia e gli diciamo anche quali sono le terapie da fare, ecco alcuni muri si alzano e quindi questo passaggio di comunicazione è assolutamente succede con una certa facilità. L'obiettivo nella mia testa è spostare, migliorare la comunicazione medico-paziente, ovvio, ovvio, ma cercare anche in qualche modo di spostare questa comunicazione medico-paziente a una comunicazione sanitario ma anche associazione dei pazienti-paziente al fine di riuscire a raggiungere il paziente stesso da vari punti, perché purtroppo non siamo in grado di raccogliere tutto questo in unica visita, quindi avere tanti alleati che ti aiutano nel portare a bordo, nel migliorare questa accettazione iniziale, nel convincere il paziente di iniziare la terapia è fondamentale. Io ritengo che il ruolo infermieristico, infermieri famiglia, tutto quello che volete sia assolutamente fondamentale nella gestione dei pazienti cronici e i nostri sono spesso pazienti cronici. Poi si possono fare tutte le strategie, i device che sono cambiati, la somministrazione, cioè ci sono tante cose, ma se non c'è una buona comunicazione all'inizio, comunque se non lo perdi nella fase iniziale rischi di perderlo lungo il percorso e comunque questo ti comporta un'aderenza. Noi cambiamo più facilmente il farmaco perché ti risulta molto più facile cambiare il dosaggio o il farmaco piuttosto che indagare se effettivamente la terapia è stata assunta, anche perché poi non tutti i pazienti te lo dicono. Certo, ecco, posto che la comunicazione medico-paziente è una comunicazione efficace e la base dell'aderenza, quali sono gli altri fattori che condizionano l'aderenza, anche legati per esempio alle modalità di assunzione dei farmaci o ad altri fattori che appunto ci può raccontare? Ma tantissime sono i motivi per cui il paziente può diventare non aderente, cioè se pensiamo al paziente anziano che ha molte comorbidità e ogni comorbidità solitamente accompagnata da una terapia e quindi alla fine assume 17 farmaci in un giorno, 17 sono troppi e decide di sospenderne qualcuno. Magari te lo dice, magari non te lo dice. Ma pensiamo per esempio qual è il grande vantaggio che hanno avuto le terapie in ambito cardiologico, quando il paziente prendeva il diuretico, l'antipertensivo e altro, li hanno concentrati tutti in unica somministrazione, in una capastiglia e quindi anche il ridurre il dosaggio nel corso della giornata è importante. Le vie di somministrazione, molti pazienti associano disturbi al fatto che prendono il farmaco per bocca e quindi una via di somministrazione diversa può migliorare l'aderenza terapeutica. Certo che scovare il paziente non aderente non è facile perché l'identikit del paziente non aderente non è semplice. Io ogni tanto ai miei collaboratori faccio questo esempio. Il paziente tipicamente meno aderente qual è? è il giovane adulto, quarantenne diciamo così, in carriera, giacca e cravatta, che è single e quindi non c'è magari la fidanzata, la moglie, la compagna che lo massacra. Ecco questo paziente è poco aderente. Come si suol dire l'abito non fa il monaco, tu ti aspetteresti che questo qua ha il modello in assoluto, alla fine poi alla fine non si cura. Quindi è veramente difficile, non esiste la soluzione. Noi quando abbiamo alcuni pazienti non aderenti magari cerchiamo di spostare le terapie laddove possibile, infusionali almeno per vedere il paziente che assume il farmaco. Ci sono alcune strategie. In realtà purtroppo non abbiamo ancora queste così grandi conoscenze. Quindi l'elemento fondamentale è dare informazione, fare informazione. Certo. Prima di chiudere vorrei che ci raccontasse l'esperienza nel suo centro, l'ospedale Niguarda, dove avete già da diversi anni implementato un progetto di telemedicina molto interessante e che ha un impatto favorevole proprio sull'aderenza. Grazie per la domanda perché la telemedicina è uno degli argomenti che mi appassiona assolutamente di più, se non fosse perché dal 2014 facciamo telemedicina e telemonitoraggio e ci sta dando grandissimi risultati. L'esempio che io porto sempre come momento assolutamente importante nel nostro reparto è il periodo Covid, dove abbiamo gestito in telemedicina, in telemonitoraggio, in televisita, in telefonata che non è telemedicina ma una telefonata permetteva di avvicinarsi al paziente. Abbiamo gestito un migliaio di pazienti in terapia con biologici con il telemonitoraggio, la telefonata e l'invio a casa del farmaco. Perlomeno abbiamo garantito un'aderenza perché almeno avevano a casa il farmaco, perché in quel periodo il rischio era di non avere neanche a casa il farmaco. Il Covid è un motivo di non aderenza terapeutica, adesso sono passati un po' di mesi barra anni, ci siamo dimenticati, ma la gente usciva di casa, alcune volte i farmaci non li aveva e se stai bene magari non ti interessa averlo, ma poi se non ce l'hai perché stai bene e poi stai male, il problema aumenta, quindi anche le situazioni, gli ambienti, determinate situazioni possono condizionare l'aderenza. Quindi la telemedicina, i messaggi che ti arrivano a casa, il mobile app come si dice, ti porta a casa una serie di informazioni che ti aiutano nel migliorare l'aderenza. Sono tutti elementi fondamentali che devono avere una base importante che è il tirarsi a bordo il paziente all'inizio e quindi la comunicazione. Io penso che tutti gli altri sistemi tecnologici senza un corretto rapporto paziente e tutto il sistema sanitario diventi poco utile. Bene, grazie a quello che ci ha raccontato, soprattutto della concretezza con cui ci ha spiegato come stanno le cose. Grazie davvero. Grazie a voi.